Salutare il dottor De Paolis, dirigente di Regione Puglia e voglio anche salutare il Peppino Durso che in questa avventura e in questa procedura mi ha supportato e aiutato a realizzare quello che era un disegno che da tempo in tanti accarezzavano. La consulta provinciale della legalità, cosa è? E' la necessità di mettere in rete, con una filosofia condivisa e con una strategia univoca, le varie azioni che sul territorio si svolgono. Devo dire che tutti gli enti territoriali, molte associazioni sul territorio provinciale, si sono rese protagoniste di tutta una serie di iniziative volte ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito delle nostre comunità cittadine. Probabilmente, questa è la sfida che insieme raccoglieremo, perché nel seguito seguirò la vicenda come sindaco di Sansevero atteso che sapete che sono gli ultimi giorni del mio mandato presidenziale, la sfida è appunto di mettere in rete queste iniziative andando sul territorio per accrescere quella che comunemente viene chiamata, con una denominazione di recente conio, politiche di antimafia sociale.